Grazie a tutti, nel mondo della musica, purtroppo è morta Dan Lee, famosa pop star. Era una cantante ovviamente, aveva soltanto 42 anni di età, si è spenta in seguito ad una complicazione che si è verificata all'intervento di liposuzione. Non è andato bene, purtroppo lascia una figlia, un marito, la figlia di soli 7 anni di età, non è chiaro ancora cosa possa aver creato la complicazione che ha portato la morte della donna. Il suo nome era Daniel Fonseca Macerado, venerdì è stata operata, liposizioni su pancia e schiena, riduzione del seno, dopo l'intervento però ci sono state le complicazioni che hanno portato la donna alla morte. Era, diciamo così, brasiliana, aveva veramente tanto da offrire a livello musicale, famosa per Eusoud Amazonia, pubblicata nell'anno 2014, la donna si esibiva nei più importanti parchi del mondo, riuscendo ad ottenere sempre grandissimo successo e anche, diciamo così, grandissima popolarità. Contate soltanto che su Instagram ha la bellezza di via 40.000 i fischi followers, quindi 41.000 circa iscritti, va bene? Ringrazio tutti in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, utenti di YouTube, dando i riposi in pace. Amen.